Massimino ancora, Massimino centrale, cerca Corazzi, la palla va alla nicole, Corazzi interviene, viene messa giù Caterina Ambrosio ma non è fallo secondo l'arbitro, Abate è quella che se ne va, un doppio passaggio con Bigliucci, pizzolato, Massimino, mette giù Ferin, neanche questo è fallo secondo l'arbitro, faccio di posizione, punto veri cittadella. Cattellosa Caterina Feline con l'arbitro Cevelini, vediamo che a terra si cammina la base, molte volte a terra. Grazie a tutti.